Siamo su adesso, è un'opera che aspettavamo da quanti anni? Dall'epoca Cordano che si dice che c'erano dei problemi e se non avessimo scelto il cofinanziamento non l'avremmo mai fatto. Abbiamo scelto la linea tutta, adesso diventerà, deve essere restiturato. La fontana ritornerà come era prima perché avete numerato tutti i numeri. Sì, sì, la modifica non vuole, però è tutta numerata, sì, sì, sì. Anche vi dite tutti i numeri. Lui deve ritornare. Lui, lui deve ritornare. Lui, lui deve ritornare. Lui, lui deve ritornare. Lui, lui deve ritornare.